Le etichette e gli imballi indicavano chiaramente l'origine italiana dei prodotti. Tutto falso, migliaia di tende e tappeti però venivano direttamente dalla Repubblica Popolare Cinese o dall'India. Questo è quello che ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino nei giorni scorsi. L'operazione, condotta dai finanzieri del gruppo Pronto Impiego Torino, ha avuto inizio nelle scorse settimane, quando in alcuni negozi del capoluogo piemontese sono stati rinvenuti in vendita sugli scaffali centinaia di articoli di arredo per interni. Tra questi tende in organza di seta, tovalli e tappeti di lana e cotone, distribuiti da tre imprenditori di india cinese con i depositi a settimo torinese. Tutti gli articoli riportavano falsamente la produzione made in Italy, dei tessuti, come false erano anche le indicazioni merceologiche dei prodotti. A rafforzare l'inganno verso i clienti, circa l'italianità degli articoli, anche le confezioni riportanti simbologie in cui vocabili, come le bandiere tricolori. Le indagini coordinate della Repubblica di Torino hanno portato i finanziari all'interno dei depositi dove sono stati sequestrati oltre 120.000 articoli falsi e pronti per essere distribuiti in vari punti vendita del Nord Italia. È stato inoltre accertato che per evitare i controlli della dogana italiana, gli articoli venivano importati per il tramite di un distributore, sempre di etnia cinese, con sede in Ungheria, il quale si occupava così di europeizzare il prodotto proveniente dall'Oriente in maniera tale da farlo circolare liberamente all'interno del vecchio continente. I quattro imprenditori coinvolti nell'operazione sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria per frodo in commercio, rischiano fino a due anni di reclusione oltre la confisca del materiale sequestrato. La commercializzazione dei falsi articoli avrebbe garantito un profitto di oltre un milione e mezzo di euro. Inoltre, nel corso dell'intervento, che ha visto il coinvolgimento di un commerciante con un market a feletto, i finanzieri hanno sequestrato, oltre ai prodotti tessili con false indicazioni, ulteriori 250.000 articoli non conformi in materia di sicurezza prodotti e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Grazie per la visione!